Ciao ragazzi! Oggi faremo la Whisper Challenge e la faremo in compagnia di... Carlotta Che su Youtube mi chiamo Charles E... passiamo subito, vai Va bene, ok, io metto la musica Allora, praticamente, vabbè, lo spiego Mettiamo... Mettiamo... Le cuffie E uno deve mettere la musica a palla E l'altro deve dire delle frasi E quella che ha le cuffie con la musica a palla Deve... Deve... Capire cosa dico E niente, ok Metti la musica a muppiti Per l'ora la metti Ce la può fare, mi raccomando Arriva, arriva, arriva E... metti la musica alta, alta, alta Parla? Ciao Eh, io sento un casino però, sento io Senti? Io sento Allora proviamo tipo con queste cuffie Togli queste cuffie Arriviamo, che siamo... Togliti tu Intanto vi parlo un po' del mio canale Ok, io mi chiamo Sherlock Channel Giù nella descrizione ve l'ho trovato Ti ho detto di parlare Dai, tieni queste cuffie, provaci Per me queste faranno ancora... No Prova Tieni E comunque questo qua è mio cugino E poi in descrizione vi lascerò il link Ma sai come si chiama? Ma sai come si chiama? Senti? Ciao Sento ancora di più E tu me... damme Tu... canta Canta, scusa Oh, io bevi con la mala Mi senti? E se io... E sento di meno con queste Comunque sento lo stesso Comunque sento lo stesso E... ste cuffie... ste cuffie... Ti ho... Ok... Guarda i miei capelli Ehi, contale Ehi, contale Ehi, contale Ehi, contale Comunque io parlo senza... senza parlare parlo Cosa vuoi parlo senza... Allora... Io... Non parlo Parlo muto Ah, ok, non parlare No, parlo non lo capisco Quindi tu parla ve lo parlo Allora io prima faccio sentire Ehi, contale Ehi, contale Ehi, contale Ehi, contale Ehi, contale Parlo muto Ah, ok, non parlare No, parlo non lo capisco Quindi tu parla ve lo parla Allora io prima faccio sentire Ehi, contale Ehi, contale Ehi, contale Faccio sentire Ok, vai Faccio sentire prima la Vai, allora non sento Ehi, contale Ehi, contale Ehi, contale Ehi, contale Ehi, contale Devi però parlare Perché sennò non lo capisco Allora, aspetta Chissà Dico Cosa hai mangiato oggi? Dico Cosa hai mangiato oggi? Cosa hai mangiato oggi? A pranzo Ok, uno a zero che metterò qua sopra Ora vai tu Ah Eh, però metti la musica Sì Ok Ehm La frase sarà Ehm Ieri ho visto Cameron Dallas ed era molto bello Ecco Vai Ieri ho visto Cameron Dallas ed era molto bello Piano Ieri Ed era molto bello Ieri ho visto Cameron Dallas ed era molto bello Ed era molto bello Ci sta Brava, brava, brava Non ho sentito Comunque Niente, adesso gli dico una frase Allora un picco e non so cosa dire che tu chiedi aveva la sferita non dirò hai fatto gli chiedo il tuo film Harry Potter o la cacca vai vieni ma non ballare ma io mi il il che cazzo è il 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 dimmi la frase il tuo film no no se c'è una cosa cazzo no no il 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 tuo il tuo film preferito è Harry Potter Harry Potter non è un film è una saga chi se ne frega urrà u o or o la cacca o la cacca o la cacca o la cacca ahahah una frase alla cavolo ma scusami ma dovevo ridere no una frase alla cavolo tipo va bene ora tocca a me ora tocca a me si qua c'è mio fratello minuscolo va bene ora tocca a me ok aspetta ora te la metto Comunque tipo le parti del taglio rosso Ok Ma ce ne vai di là Aspetta, cosa posso fare? Dico una cosa cazzo Dico Dico una frase Senza senso E poi dico sì 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 avevi ragione Donne 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 Mi 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 chiamano così mio canale Chiamano Channel An Shetti Arrivamo But No Mi Grazie a tutti. Grazie a tutti. E se... Nei commenti... Dai, Carlotta! Vabbè, comunque se... Nei commenti... Scrivetemi qualche altro video... Scrivetemi... Qualche altro video... E niente. Ciao! Ciao!